Se ricordate le vie semi-deserte del mercatino europeo del giovedì poveriggio, beh, scordatevele perché nel fine settimana la fiera ha richiamato centinaia di visitatori. Come da programma, il clou dell'evento è stato il sabato sera, con lunghe code davanti alle casse e posti a sedere praticamente esauriti già verso le sette e mezza. Una benedizione per gli ambulanti che hanno fatto affari d'oro, un po' meno per buona parte dei visitatori che hanno dovuto arrangiarsi nel consumare in piedi i propri pasti. Soddisfatti comunque dell'ottima qualità del cibo e dei sapori diversi, per alcuni la fiera d'Europa è stata l'occasione per riassaporare i gusti e i piatti del proprio paese d'origine, come Moldavia e Polonia, per altri l'opportunità di riassaggiare quei sapori scoperti durante una vacanza a Cipro o in Messico. In ogni caso la festa d'Europa con il suo mercatino artigianale si è confermato uno degli appuntamenti più apprezzati della stagione, che si concluderà questa sera, domenica alle 22. Buona anche la riuscita della notte green organizzata sempre sabato sera nel centro di Asdi. Corso Alfieri e le vie del centro hanno visto il fluire di molti astigiani e visitatori. Unica pecca rispetto all'anno scorso, si sono avuti meno concerti ma anche meno esibizioni delle scuole di ballo della città. Suggestivo il concerto organizzato in piazza San Secondo davanti al municipio e alla collegiata, le note hanno richiamato un pubblico numeroso e attento, mentre per le vie dello shopping qualche delusione c'è stata per la maggior parte delle attività chiuse davvero un peccato.